Musica Dimezzato in due settimane il numero di ricovrati covid al Morelli di Sondalo che oggi sono 54 dopo mesi difficili ospedali della provincia si avviano verso il ripristino di posti letto e servizi ordinari Due arresti eseguiti dai carabinieri di Morbegno nei confronti di una diciassettenne e un diciottenne secondo gli elementi raccolti sarebbero loro gli autori della furto messo a segno in città all'interno di un bar Canti delle Valli è il titolo dei video dedicati ai canti della Divina Commedia recitati nei luoghi più suggestivi della provincia un lavoro realizzato dai ragazzi dell'Usta in onda su Unica ogni martedì Il gol di Pato Gorgona, tre punti e terza vittoria consecutiva momento felice per la nuova Sondio Calcio che sul campo di Barzago ha allungato la striscia positiva Domenica a Sondio arriva la capolista Buonasera, buonasera a tutti In apertura un aggiornamento sulla situazione Covid Si dimezza il numero di ricoverati al Morelli di Sondra o rispetto a due settimane fa Ad oggi sono 54, un calo della pressione sugli ospedali della provincia che permette anche di ripristinare posti letto e servizi di altri reparti Va migliorando la situazione dei malati Covid in cura al Morelli e di pari passo tornano alla piena operatività anche i reparti Scendono infatti a 54 i ricoveri nonostante i numeri dei nuovi ricoveri e dei decessi nell'ultima settimana consiglino di mantenere alta la guardia Nell'ultima settimana infatti si sono registrati 46 nuovi ricoveri di cui 31 già dimessi Tra le sette persone decedute, cinque nate negli anni 30, una negli anni 40 e una negli anni 50 quattro non erano vaccinate Il bilancio dei decessi nel 2022 sale a 29 ai quali si aggiungono i 20 da settembre a dicembre scorsi per un totale di 49 nella quarta ondata della pandemia Nel primo padiglione dell'ospedale Morelli sono attivi tre reparti dedicati due per i malati in gravi condizioni, uno per quelli in via di guarigione Complessivamente i pazienti che manifestano soltanto lievi sintomi ricoverati anche a Sondro e a Morbegno sono 19 La progressiva diminuzione del numero dei ricoverati ha consentito di chiudere il reparto Covid-19 del secondo piano del primo padiglione del Morelli La nuova disponibilità di personale ha permesso di riattivare quattro posti letto dell'unità spinale portando il totale a 14 oltre ai 10 posti letto di neuro-riabilitazione Sul fronte dei contagi, ATS della Montagna ha diffuso l'ultimo bollettino che parla di 115 nuovi positivi con una media di 120 negli ultimi sette giorni I guariti registrati sono 185 meno di 1.600 sono in totale le persone attualmente positive in provincia di Sondrio e da domani entra in vigore l'obbligo per gli over 50 del Super Green Pass ottenuto con vaccinazione o guarigione per accedere ai luoghi di lavoro La disposizione durerà a salvo modifiche fino al 15 giugno Gli ultracinquantenni che non potranno esibire il Green Pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati non saranno retribuiti non avranno conseguenze disciplinari e manterranno il diritto a conservare il posto di lavoro E ora la cronaca con i due arresti eseguiti dai carabinieri di Morbegno nei confronti di un 17enne e un 18enne che risiedono in bassa valle Secondo gli elementi raccolti sarebbero loro gli autori del furto messo a segno l'anno scorso in città all'interno di un bar e anche sul fronte vandalismi le indagini sono vicine a una svolta Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Morbegno I militari dell'arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano a carico di due giovani del posto Sono gravemente indiziati del furto all'interno di un esercizio commerciale di Morbegno Le indagini condotte dai carabinieri anche grazie all'acquisizione di filmati di videosorveglianza hanno permesso di acquisire elementi di responsabilità a carico dei due giovani rispetto al furto commesso nel mese di aprile del 2021 all'interno del bar Dalla visione delle telecamere, spiegano i carabinieri è emerso che gli autori dopo essere entrati all'interno del locale forzando la porta d'ingresso si sono impossessati di diversi biglietti gratta e vinci tabacchi vari alla somma di 150 euro in contanti Il titolare del bar aveva subito presentato denuncia alla stazione carabinieri di Morbegno Oltre alle immagini, altri elementi sono stati raccolti con un minuzioso lavoro tradizionale sul campo Le indagini militari hanno consentito alla procura per minorenni di Milano di poter richiedere ottenere la misura cautelare I due giovanissimi sono stati individuati nella propria abitazione Dopo le formalità del caso sono stati accompagnati fino al beccaria di Milano I due ragazzi, spiega l'arma, erano già notte le forze dell'ordine per altri reati più nello specifico per tentato furto e danneggiamento E in questi giorni i carabinieri hanno raccolto anche ulteriori elementi altri indizi sugli atti vandalici che si sono verificati a Morbegno all'inizio di quest'anno e che avevano destato preoccupazione nell'opinione pubblica tanto da essere messi sotto la lente in diverse riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica Ora parliamo di scuola, commento positivo del provveditore Fabio Molinari i dati sugli iscritti al prossimo anno in tutti gli ordini di scuola della provincia di Sondrio Un lieve aumento, afferma Molinari, che conferma la stabilità del sistema scuola sul fronte numerico e servizio Crescono le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola in provincia di Sondrio anche se si tratta di un aumento di lieve entità Lo fa sapere l'ufficio scolastico territoriale a pochi giorni dalla chiusura anche in provincia dalle procedure di iscrizione online alle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori Il totale delle domande di iscrizione inoltrate alle classi prima delle scuole primarie per il prossimo anno scolastico è di 1433 contro le 1430 dell'anno precedente Il totale di quelle per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado è 1620 rispetto alle 1616 del 2021-2022 Infine, il totale delle domande di iscrizione inoltrate relativamente alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado è 1667 contro le 1569 dello scorso anno Nel dettaglio si tratta di 688 iscritti nei licei, 639 negli istituti tecnici e 340 in quelli professionali Seppur di lieve entità, i dati di quest'anno registrano un complessivo aumento delle iscrizioni in tutte le scuole dichiara il dirigente dell'UST di Sondrio, Fabio Molinari La situazione si può definire quindi nel complesso stabile anche se il dato generale non tiene conto di quelli che sono i dati di ogni singola istituzione scolastica che consentirebbe un'analisi più particolare poiché abbiamo territori in cui gli studenti aumentano ed altri in cui invece diminuiscono Tuttavia, nel suo complesso, il sistema scuola dal punto di vista numerico risulta stabile anche quest'anno Ora attendiamo la determinazione delle consistenze organiche da parte dell'ufficio scolastico regionale per poter poi procedere all'assegnazione dei posti alle scuole La sanità da mercoledì 16 febbraio alla Prica sarà operativo uno sportello online a disposizione dei cittadini per gestire le pratiche come la scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra l'iscrizione temporanea al servizio sanitario per lavoro, studio o salute l'iscrizione di cittadini di paesi UE o extracomunitari la nuova emissione della tessera sanitaria in caso di smarrimento la richiesta di esenzioni per patologia, reddito o invalidità Il nuovo servizio è stato organizzato da SST in collaborazione con il Comune di Aprica La postazione periferica allestita presso la sede municipale di Piazza Mario Negri sarà attiva tutti i mercoledì dalle 14 alle 15.30 per poter accedere è necessario fissare un appuntamento chiamando il numero 0342 7461 16 interno 2 Canti delle valli è il titolo dei 13 video realizzati dai ragazzi del laboratorio multimediale dell'ufficio scolastico di Sondrio che propone i canti più significativi della Divina Commedia recitati nei luoghi più suggestivi della nostra provincia Unica li trasmetterà il martedì alle 20 in replica venerdì alle 13.40 e alle 22.40 e domenica alle 20.40 Ecco una breve anticipazione 13 video inediti che racchiudono le letture di altrettanti canti della Divina Commedia Così l'ufficio scolastico territoriale di Sondrio chiude l'anno dedicato alle celebrazioni del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri Ciascun episodio è stato realizzato nei luoghi simbolo del territorio grazie alla partecipazione di alcuni rappresentanti del mondo della scuola e delle istituzioni Ad impreziosire i versi del sommo poeta Sono le immagini dei suggestivi scorci di Valtellina e Val Chiavenna selezionate per le riprese di cui vengono illustrati gli aspetti storici, artistici e culturali da parte degli esperti I canti dalle valli risuonano infatti da Tirano fino a Chiavenna Presentiamo questo collage che abbiamo intitolato I canti dalle valli che rappresenta un po' il nostro omaggio ai settecento anni dalla morte di Dante ma allo stesso tempo vuole essere un omaggio alla Valtellina perché dalla lettura di questi canti avremo anche la possibilità di scoprire e di riscoprire tante località belle, suggestive e uniche dal punto di vista artistico e paesaggistico della Valtellina e della Val Chiavenna È stato un lavoro lungo in cui abbiamo creduto ma è un lavoro fatto davvero col cuore dal mondo della scuola per chiunque avrà voglia di vedere Dante, di ascoltare Dante e di rivedere quanto è bella la nostra Valtellina e quanto è bella la nostra Val Chiavenna Quasi 200 minuti di approfondimento artistico e letterario resi possibili grazie al lavoro portato avanti negli ultimi 12 mesi dal laboratorio multimediale dell'Ust Noi siamo felicissimi che questi canti siano da un lato sul canale YouTube dell'Ufficio Scolastico e dall'altro con un protocollo sottoscritto con Unica TV saranno anche presentati dalla televisione e quindi raggiungeranno ancora più persone e questa è la soddisfazione migliore per chi davvero si è impegnato tanto per realizzare questo lavoro e ringrazio davvero Nicolas, Cristian, Enrico e tutti coloro che ci hanno davvero lavorato I canti dalle valli saranno trasmessi su Unica il martedì sera alle 20 Lo sport, il calcio, un gol, tre punti e terza vittoria consecutiva momento felice per la nuova Sondio Calcio che sul campo di Barzago ha allungato la striscia positiva la squadra oltre ai risultati esprime anche bel gioco e nel prossimo turno a Sondrio arriva la capolista Terza vittoria consecutiva per la nuova Sondio Calcio la seconda sotto la guida di mister Fraschetti e i tre punti conquistati sul campo di Barzago valgono tantissimo era una sfida chiave nella corsa salvezza il gol partita porta alla firma di Pato Gorgona una zampata vincente messa a segno all'ottantesimo sugli sviluppi di un calcio da fermo Rete che è arrivata quasi al termine di un match che i biancazzurri hanno sempre avuto in pugno i ragazzi di mister Fraschetti hanno neutralizzato le azioni del Barzago e in più occasioni sono stati vicini al gol una squadra a trazione anteriore nel primo tempo tabellino costellato di azioni biancazzurre in evidenza Chilafi dopo 5 minuti di gioco era proprio l'attaccante valterinese a liberarsi in area e servire un assist davvero ghiotto ma l'occasione è sfumata al decimo nuova sondio calcio ancora pericolosa con Victor il suo tiro è stato deviato in angolo dal soldo un minuto dopo ancora Chilafi vicino al gol minaccia disinnescata dall'estremo difensore del Barzago al trentaseiesimo colpo di tacco di Raul Uglia Olivare è spessa all'altezza dell'area piccola palla sul fondo nella ripresa le redini del match sono rimaste nelle mani della nuova sondio calcio al cinquantesimo tiro di Chilafi bloccato da soldo al sessantasettesimo è entrato in campo Mattias Rodriguez neo acquisto biancazzurro che ha fatto così il suo debutto il Barzago, squadra allenata dall'ex mister biancazzurro Roberto Arrigoni si è resa pericolosa per la prima volta al sessantottesimo con Stefanoni la sua conclusione è finita però alta sulla traversa al settantottesimo nuova incursione di Victor soldo ha deviato in corner e proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo è arrivata la rete decisiva di Pato Gorgona gol e corsa assieme ai compagni sotto la tribuna nel settore dove si trovavano i tifosi del gruppo Sassela brivide l'ottantatresimo per la rete di Cortesi annullata per fuorigioco nel finale Sondrio vicino al raddoppio con Ayub e domenica prossima la Castellina arriva la capolista Alta Brianza reduce dal successo di misura a Colico ora parliamo di noi l'eco e il sondio diventano un solo canale il passaggio e le frequenze è in corso ci troverete sul 75 di nuovo digitale terrestre quando non vedete più unica sul 12 o sul 193 dovrete risintonizzare il vostro televisore per continuare a seguire i nostri TG e le trasmissioni sul 75 unica visibile in tutta la Lombardia vi ricordo che potete seguire le nostre news sul nostro sito teleunica.com guardare le trasmissioni e il palinsesto sulla web tv teleunica.tv e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social con questo è davvero tutto vi auguro una buona serata